Daniela Struna è una delle partecipanti all'estemporanea di pittura edizione 2024 qua a Belmonte Calabro, accanto alla tua opera Il bacio del sole. Grazie, il mio nome è Daniela Struna, sono studentessa dell'archeologia giudiziaria e crimini contro il patrimonio culturale, sono ex studentessa, ho assolvito l'Accademia di Belle Arti di Roma nei miei lavori sono, diciamo, ispirati all'archeologia, alla storia e più nel presente mi ispiro all'amore, alle teme, diciamo, più vicine al cuore, all'anima un amore che non è molto tranquillo, così come i nostri tempi, è molto tumultuoso e spero che vi piacerà il mio momento. Grazie Grazie